Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto super, super, super bene Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video Oggi come potete notare sono su una location davvero troppo, troppo particolare Infatti dietro di me c'è il mio armadio Ho detto, ho un armadio, ci sono dentro le cose, ogni cosa ha un proprio suono Allora trasformiamo in trigger gioche nell'armadio facendo il primo video in assoluto Su tutta YouTube all'interno di un armadio Spero possa piacervi questa idea Esplorerete così assieme a me il mio armadio per vedere cosa ho all'interno Anche se nel video roleplay dei vestiti avete visto gran parte del suo contenuto Detto questo, spero che questa idea innovativa possa esservi piaciuta Magari potrei portare più avanti anche ASMR in altre zone della casa, possiamo così dire Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto Perché il nostro obiettivo è quello di arrivare a 30.000 iscritti entro la fine dell'anno Conto su di voi E per non perdervi nessun aggiornamento sul canale andatemi a seguire anche su Instagram Link in descrizione Detto questo, cominciamo subito, subito, subito Allora Mi sposto Ho un armadio tutto mio, cioè che location strana ragazzi Allora, qui troviamo una felpa I Fabric Sound sono i miei preferiti, davvero sono tanta tanta roba Il logo della puma Sto ripetoso Mi piace troppo registrare questi video molto particolari Poi con il Tascam che secondo me per la voce è il migliore Questa è la felpa della Napa Piri E il suono in pratica è quello del logo stampato In rilievo Qui abbiamo Un giacchetto di jeans E dentro dei pantaloni lavati mi sa che c'è una busta di plastica Vabbè, la plastica sappiamo sempre essere rinomata per i suoi suoni magnifici Questo è il suono del bottone di una tasca del giacchetto Ci scoprono anche cose nuove Perché per esempio di averlo non me lo ricordavo Non li metto mai i giacchetti di jeans Ah, sentite questo? E' meraviglioso dall'interno del giacchetto Adesso mi giro dall'altra parte Per farvi vedere quest'altra zona Partiamo da questi No, da questi ancora più dietro Che sono i pantaloni della tuta Per farvi vedere quest'altra zona Per farvi vedere quest'altra zona Per farvi vedere quest'altra zona Anche questo è un suono davvero molto bello. Poi abbiamo questi altri pantaloni che sono dei cargo verdi, come si può notare. Il risvolto sotto, spettacolar suono. Il risultato è molto bello. Allora, qui abbiamo poi, 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 altri cargo nascosti. Che sono questi bash, come potete notare. In pratica sono identici a quelli di prima. Forse di tessuto un po' più fine, più leggeri sono, giusto, giusto questa cosa qui. Tutti bellissimi suoni per adesso. Qui abbiamo, al contrario, altri cargo verdi. Se non l'avete capito, il verde mi piace. E i cargo anche sono i pantaloni che preferisco di più in assoluto. Bello anche questo. Grazie. 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 Bello, bello. Poi abbiamo jeans. Beh, anche jeans ci devono stare su. 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 Altri cargo Questa volta cambiano di colore, dai Ok E con quest'ultimi nuovi di pacca, con anche l'etichetta, possiamo concludere Ovviamente questo è l'armadio per i pantaloni Le magliette invece le tengo all'interno dei cassetti che sono questi che stanno qui accanto a me Magari potrei farla anche su quello in video Questi sono della Boxer, non so se la conoscete E le ho comprate di ritorno dalla montagna all'outlet di Mantova L'etichetta A stai Poi vabbè certo Ci stavano anche 3-4 felpe Ma principalmente Ci sono i pantaloni qua dentro Bene Questo video termina qui Questo super particolare video Spero vi sia piaciuto E che vi abbia rilassato E se altri smr artists Vogliono provare a fare un smr Nell'armadio Fate pure facciamo partire questo tag Ditemi qual è stato il suono Che più vi è piaciuto E detto questo non posso far altro Che augurarvi una Tranquilla Cheiosa E serena Notte Notte Notte